Ciao Chloe, c'è la musica di qua, no, che fai Zeno? La musica? Quella che mi piace a me. Ti piace questa? Una coglione. Alzo un po' il volume. Tu ci senti meglio. Le casse le lasci così, le regolate così? Ah, le hai messo a zero? Una coglione. Grazie a tutti.